Il Consiglio diplomatico giunto del Presidente del Consiglio, il nostro ambasciatore, il Consiglio di Italia, il Consiglio del Consiglio diplomatico. Speriamo la scherzina, così facciamo le foto. Grazie. Grazie. Questo è il mio personale legato, non c'è mai il protocollo. È il mio ultimo libro, è la mia opere che abbiamo fatto con la Galleria Perino. Sono tutti i disegni che io faccio in ufficio mentre faccio le riunioni. Poi sono anche delle scritture in ceramica. Ti fai tu? Sì, sì. Accidenti. Buonissimo. Ma sono sopra i documenti che sono nella tavola d'ufficio, cioè le agende. Beh, sono splendidi. Grazie. L'unico Primo Ministro al mondo che è un artista. Eh sì, c'è anche Bush, ma lui... Ah, è vero. È vero, sì, sì. Però, insomma... Accidenti che bene sono... Grazie. Molissimi buoni venti, eh? Ah, bene, Sorm. Per fortuna. Grazie. Grazie. Grazie a farlo grande aprile. Grazie.